a mettere un punto fermo per chi si va a vaccinare domani qui in Italia. Dunque, da domani la raccomandazione ultima, dopo il ragionevole sospetto di casi rarissimi con quella frequenza che lei diceva, di 1 su 200 mila, che vuol dire poche unità per milione, ma verosimilmente plausibile, ha portato a questa scelta per l'Italia che è di concentrare e spostare il vaccino AstraZeneca sugli ultrasessantenni, nei quali i dati mostrano che non solo non si è verificato, ma ce ne sono meno dell'atteso. E quindi lo facciamo con grande confidenza. A questo punto bisogna spiegare, per questa inversione AUG, se possiamo chiamarla così, come era nata prima. Era il vaccino dei giovani e adesso è diventato il vaccino degli anziani. Io vorrei spiegare perché era il vaccino dei giovani, difendendo quella scelta che AIFA fece e che altri paesi fecero simile, tra i 55 e i 65, ed era dovuta ai limiti dello studio, anzi degli studi fatti da AstraZeneca per portare in registrazione il farmaco, che sono gli studi più importanti che si fanno. Quegli studi avevano una popolazione molto giovane e mostrava un dato di efficacia sotto i 55 anni inferiore anche a quello dei primi due vaccini e RNA che mostravano quei famosi 95% di protezione. Sottolineo che a AstraZeneca fu registrato con un 59,5, diciamo 60. EMA approva i farmaci e i vaccini uno alla volta, perché nei vari paesi ci potrebbero essere tutti o nessuno. Invece ad AIFA e alle agenzie nazionali o ai comitati vaccini viene chiesto di fare anche un'analisi comparativa. Quando quindi arrivò a AstraZeneca, a fronte degli altri due precedenti, aveva meno dati negli anziani e apparentemente meno efficaci. Quindi si disse che l'ODA ci limitiamo a quella popolazione. Poi sono arrivati i dati inglesi, molto confortanti. E siete saliti da 55 a 65? A 65 immediatamente. Poi sono arrivati ulteriori dati degli scozzesi e di altri che hanno mostrato che funzionava bene anche. Bene detto il Signore però. Ecco, è chiarissima la sua Infeclusione